Allora, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda al sito di Pampling dove al momento trovate tutte le magliette in catalogo 10 euro 90, ce ne sono veramente carinissime, tutte rigorosamente a tema nerd e se a vostro acquisto aggiungete un paio di calze alla vostra scelta del catalogo e usate il codice VILASZLO le calze non le pagate e quindi se vi interessa sapete cosa fare, adesso però parliamo del fatto che i Warner sono impazziti perché questa settimana stanno facendo uscire una pioggia di trailer, è uscito il trailer di Furiosa sono usciti due trailer di House of the Dragon, ieri sera è uscito il trailer di Beetlejuice, il sequel del film di Tim Burton diretto sempre da Tim Burton con Michael Keaton, Catherine O'Hara, Winona Ryder, New Entry, Jenna Ortega sembra anche carino, ovviamente era un teaserino veramente di 50 secondi e adesso è uscito il trailer della serie sul pinguino e io sono molto curioso di vedere come sia perché è una serie che attendo tantissimo, quindi adesso la vediamo e poi ne parliamo eccolo, quanto sei bello questo è il pre-teaser questo mi sa infatti allora Max Original lui è perfetto mamma mia Rex Calabrese cosa mi tirano fuori, ok il prossimo capitolo della Batman Saga da Matt Reeves bella sporca mi piace è la sua ispirazione questo Rex Calabrese ma gli stivali che fan sembrare le zampe bellissimo mamma mia ragazzi lui sembra una cosa pazzesca attenzione oh è Cristi Miglioti oddio mamma mia mamma mia è atmosfera pura sto trailer mamma mia in arrivo in autunno su Max vediamo poi in Italia se e dove perché ancora non si sa in effetti però è un teaserino eh per l'amore del cielo ma quanta roba allora si era Cristi Miglioti ho controllato allora è un teaser di presentazione perché ricordiamoci che questo di fatto è il primo vero trailer della serie sul pinguino perché l'unico altro materiale audiovisivo che avevamo su questa serie risale a più di un anno fa ed era una sorta di featurette con un misto tra scene di backstage e scene della serie per cui è il primo contatto che abbiamo con con questo con questo prodotto e devo dire che sono estremamente incuriosito mi piace il fatto che sia un trailer di atmosfera che non ti spieghi bene quale sia la trama della serie ma che comunque ti mostri innanzitutto Colin Farrell che per me come pinguino è credibilissimo ed è anche diverso secondo me come attitudine rispetto a pinguino che avevo visto in The Batman perché in The Batman era un personaggio che a tratti era quasi macchiettistico perché è è un piccolo gangster che aspira a diventare qualcuno di più importante e quando il suo boss viene arrestato alla fine di The Batman lui ha il diciamo la possibilità di elevarsi e già questo rende la serie piuttosto interessante ma questo racconto di questo Rex Calabrese che in un certo senso è ciò che lo ha ispirato a diventare un gangster a me piace un sacco perché poi nel frattempo vediamo degli scorci di quella che sarà la serie vediamo lo sporco la crudeltà la cattiveria che forse sono le cose più importanti in una serie come questa e se posso dire l'atmosfera di Gotham mi sembra più presente qui di quanto non lo fosse in The Batman intendiamoci a me la Gotham di The Batman non dispiace affatto però questa è una serie su qualcuno che rappresenta la feccia della città quindi l'atmosfera era particolarmente importante sotto tanti punti di vista quindi io nel vederla mi sono un attimino irrigidito in zona a cavallo delle mutande perché comunque abbiamo un attore stratosferico sempre con questo trucco che lo rende irriconoscibile che ha fatto nel film un lavoro sulle movenze incredibili incredibile e anche qui di fatto lo vediamo seduto che parla con questo tono di voce un po' sabbiato un po' quasi distorto anche dal fatto che comunque ha un aspetto fisico anche deforme quindi ha anche un modo particolare di pronunciare le consonanti cioè si vede che ha magari anche problemi alla bocca quindi la caratterizzazione c'è l'avevamo già vista nel film ma mi sembra che questo personaggio qui questo Oswald Cobblepot abbia un po' più di carisma voglio dire è la serie su di lui quindi ci mancherebbe altro che non mostri del carisma ma la cosa mi lascia veramente soddisfatto io poi adoro Christy Migliotti è un'attrice che mi fa impazzire per chi non lo sapesse lei interpretava la madre in A Match Your Mother e da lì poi ha iniziato a lavorare parecchio era anche in The Wolf of Wall Street era in Palm Springs con Andy Sandberg quindi è un'attrice che ha saputo scegliersi accuratamente i propri prodotti purtroppo rimane più che altro un'attrice televisiva anche se ha fatto cinema però va bene perché quello che mi dà a livello di vibes questa serie non è qualcosa che mi fa pensare a una serie cioè se io non sapessi che The Penguin è una serie televisiva penserei che si tratti del trailer di un film sembra un film anche proprio a livello di qualità si vede che sono stati profusi degli sforzi importanti oltretutto mi piace il fatto che dicano The Next Chapter in The Batman Saga ecco questo tra l'altro mi fa pensare che tutte le speculazioni sul fatto che possa essere vero o meno che James Gunn ha trovato un accordo con con Matt Reeves per portare The Batman e il suo universo all'interno del DCU invece di lasciarlo come Elseworld a parte possono essere effettivamente delle stronzate nel senso che il fatto che marchino questa serie come il il prossimo capitolo nella The Batman Saga la separa nettamente la The Batman Saga dal DCU quindi mi sembra che ci sia una conferma implicita del fatto che l'universo di The Batman di Reeves rimane a se stante cosa che a me farebbe un piacere che non so neanche descrivervi perché onestamente l'idea che The Batman e tutto ciò che ne consegue venga portato nel DCU mi fa molto cacare per motivi che ho già spiegato in un video precedente a questo quello in cui parlavo del rinvio di The Batman 2 e ci avevo agganciato anche il discorso su Neil Campbell che torna nel nei paneli Sidney Prescott nel settimo screen se volete vederlo è un video di qualche giorno fa di settimana scorsa qua sul canale vi ho detto un po' la mia non voglio ripetermi troppo sta di fatto che questa è questo è un trailer sensazionale io spero che facciano altre serie come questa adesso ovvio non l'ho vista per l'amor di Dio però mi dà l'idea di uno di quei prodotti che difficilmente possono deludere poi in realtà la certezza non c'è mai ma ha un magnetismo un fascino mi sembra anche piuttosto violenta quindi le atmosfere del film sono perfettamente rispettate e questo potrebbe essere qualcosa di molto interessante perché non è che capita spesso che un film della portata di The Batman generi una serie con questo tipo di valore anche da un punto di vista produttivo perché qua si vede veramente che c'è stato uno sforzo a livello economico a livello anche nel cercare gli attori giusti strapagandoli probabilmente che non in tutte le serie possiamo vedere quindi dal teaser non mi sembra che ci siano diciamo particolari rimandi a un modo di fare televisivo ripeto a me sembra proprio un film a vederlo così vedremo l'incognita è dove la vedremo in Italia perché almeno mentre sto registrando il trailer è uscito solo in inglese e non mi pare ci siano trailer italiani se da qui a quando pubblico il video esce un trailer italiano tanto meglio però al momento di trailer italiani non ne ho visti e siccome con gli originali di HBO Max quando ancora si chiamava HBO Max alcuni non li abbiamo avuti perché c'era l'accordo con Sky e alcuni prodotti non sono arrivati mi chiedo questo arriverà penso di sì se arriva su Sky a me va benissimo Sky è now cioè per me non è un problema l'importante è che arrivi e che non arrivi con troppo ritardo perché ad esempio Peacemaker è arrivato su Team Vision con un ritardo di tantissimi mesi spero non sia la stessa cosa perché finché Peacemaker me la accollo non che non mi piaccia Peacemaker però voglio dire alla fine l'importanza di quella serie è relativa poi James Gunn è diventato il cosio del DCU e la sta facendo diventare importante però adesso è in Italia ci sta The Penguin è una serie la serie sul pinguino è già una cosa diversa si collega direttamente a The Batman quindi io vorrei vederla in contemporanea con gli Stati Uniti America in Italia quindi speriamo che ciò accada quindi credo che comunque la serie come già si è detto parlerà dell'ascesa del pinguino che approfitta del vuoto di potere per poter diventare un gangster ed essere probabilmente più pericoloso anche nell'ottica di The Batman 2 ma staremo a vedere quindi fatemi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate vi è piaciuto non vi è piaciuto per me è una cazzo di bomba atomica poi se ne può discutere io vi abbraccio e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti